Non rifacciamo le cifre dell'indagine, ma una sua impressione. Vado? Sì. La mia impressione su tutta questa tematica è che la sostituzione della plastica inquinante con questi nuovi bio shopper sia un processo inarrestabile, che piano piano, un po' con l'aiuto della legge, un po' con le lentezze della legge, raggiunge sempre più gente. Il nostro osservatorio mostra come la gente sia sempre più favorevole a questi nuovi strumenti e piano piano ne capisca l'utilizzo. Si sono lamentati che si rompono. Si sono lamentati che si rompono perché pensano di usarli tante volte, mentre per usare tante volte ci sono le sport e questi qui servono per il riciclo dei rifiuti.